Il Feudo San Martino è un luogo di ineguagliabile fascino in cui ambientare il vostro ricevimento di matrimonio. Adagiato sulle colline fino a coprire 200 ettari domina la vallata e il paesaggio circostante. Uno splendido angolo di Sicilia dove il tempo sembra essersi fermato e dove ogni momento delle vostre nozze sarà indimenticabile. La tenuta è formata da quattro strutture ricettive che dispongono di varie sale adatte a tutte le tipologie di eventi. La Sala dei Cavalieri, un accogliente ambiente ricavato da un'antica stalla che si affaccia su un giardino, è ideale per ricevimenti di piccole dimensioni e buffet. Se pensate ad eventi in grande stile, la Sala dei Normanni è perfetta per voi. Questo spazio ampio ed elegante, ottenuto dal restauro dell'antico granaio, vanta un'imponente altezza di circa 11 metri. La Sala degli Aragonesi, invece, gode di luce naturale grazie alle ampie vetrate che aprono la vista al paesaggio circostante. Se avete in mente un ricevimento più intimo o un piccolo rinfresco, potete approfittare della gradevole atmosfera della Sala Manfredi. Nella location, inoltre, sono presenti vari spazi esterni che possono essere allestiti per ricevimenti, tra cui il piazzale degli Svevi che con la sua elegante piscina al centro è ideale per i ricevimenti all'aperto, o il giardino Federico II, immerso in una lussureggiante vegetazione. La struttura del Feudo San Martino offre servizio di ristorazione con ricettività alberghiera a quattro stelle, The Charm. Lo chef Pino Graziano offre un tipo di gastronomia adatto a qualsiasi tipo di evento, reinterpretando in maniera creativa la tipica cucina siciliana. La struttura, grazie ai suoi grandi e funzionali ambienti, è in grado di accogliere anche altre tipologie di eventi privati e aziendali, come congressi, meeting e seminari.